Il consorzio rilancio vestino nato otto mesi fa dalla intuizione e volontà di un gruppo di imprenditori nell'area vestina con lo scopo di creare una rete di imprese e artigiani in grado di offrire un servizio completo al cliente per lavori di riqualificazione legata al super bonus 110% o riduzione del rischio sismico, nei giorni scorsi ha presentato e votato favorevolmente il primo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso con ricavi che raggiungono quasi il milione di euro. Era luglio 2020 quando abbiamo intrapreso questa avventura con tanti dubbi, tanti buoni propositi ma anche con la possibilità di non riuscire. A distanza di otto mesi sono circa 100 i cantieri in avviamento, da quel 24 di novembre dove è partito il primo cantiere, quindi circa un cantiere al giorno. Oltre 1.350 commesse acquisite con uno staff di fisso di oltre 20 dipendenti che quotidianamente dà un punto di riferimento all'intera comunità e questo ci dà enorme soddisfazione anche per il futuro. Quello che voglio sottolineare è che le imprese si sono comportate e si stanno comportando da vere consorziate. L'ottica della cooperazione è rimasta il nostro core principale e siamo molto contenti. Senza fare grandi rumori e grandi dichiarazioni abbiamo ottenuto molto di più di quello che ci aspettavamo. Le persone a cui questi lavori sono stati già svolti, già finiti, sono felici, sono contenti. Quando si fa un lavoro, fra virgolette, gratis, si tende a commercializzare e ad abbassare gli standard. Abbiamo accontentato nelle misure in cui abbiamo potuto, lasciando gli standard altissimi, per cui i clienti sono molto contenti. Ad oggi questa è stata e sarà sicuramente un'occasione importante per tanti cittadini che vorranno avvalersi di professionisti del settore a costo zero per vedere la propria casa migliorata grazie all'eco bonus. L'altro obiettivo raggiunto dal consorzio è quello di aver ridato ad imprese, professionisti e tecnici dell'area vestina quella opportunità lavorativa che la crisi edile prima e il covid oggi stavano cancellando. C'era una sofferenza dal punto di vista edile in questo momento, soprattutto anche in questo momento di covid e questa è stata la vera svolta, forse, la vera opportunità che in tanti hanno cavalcato e quindi veramente stiamo dando respiro al nostro territorio.